Euro pavimenti dei fratelli Valentini, pavimentazioni dal 1971, pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe, posatori ufficiali Ideal Work di pavimenti stampati e Sasso Italia, Euro pavimenti, via San Maccio Notaresco, info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177, nel web www.euro-pavimenti.com. Grazie.